Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura del nostro telegiornale ci occupiamo di trasporto pubblico locale perché è stata nominata la nuova presidente alla guida dell'Amtab e Angela Donvito. L'abbiamo intervistata, la conosciamo insieme ma ha già anticipato come utilizzare il servizio pubblico con serenità e garantendo puntualità e sicurezza all'utente sia uno dei suoi principali obiettivi. Cristina Ferrini. E Angela Donvito, barese, insegnante di economia. La nuova presidente dell'Amtab, l'azienda di trasporto pubblico urbano, è stata nominata con proprio decreto dal sindaco Antonio De Caro e per la prima volta una donna alla guida di un'azienda partecipata del comune. Già componente del CDA dell'Amtab dal 2016 e lo scorso novembre, oltre ad essere stata amministratrice e consigliere di amministrazione di altri entri pubblici, tra cui il conservatorio Piccini e in vitalia Angela Donvito subentra l'avvocato Sabino Persichella, dimessosi il 4 luglio scorso dopo nove mesi di presidenza con il compito di risanare l'azienda alle prese con un deficit di oltre 4 milioni di euro derivante dalla precedente gestione. Penso di partire dalle persone, io ho questa esperienza abbastanza lunga nell'ambito di Amtab, conosco tante persone, forse quelle più vicino a me per gli ambiti, per le mie competenze, quindi però ritengo che le persone facciano le aziende e quindi sicuramente in un rapporto con le persone, infatti la prima cosa che farò credo sarà convocare i sindacati e con molta serenità cercare di affrontare insieme quelle che saranno le problematiche. Cosa devo fare? Devo cercare di capire il servizio, come dovremo farlo funzionare, come cercare di migliorare, come cercare di rendere efficiente e interessante, accattivante per i cittadini. Io credo che i cittadini devono apprezzare il servizio di trasporto pubblico e utilizzarlo con serenità. Adesso parliamo di alloggi di edilizia residenziale pubblica perché sono partiti i cantieri per 13 interventi di riqualificazione con 37 milioni di euro. L'assessore all'edilizia residenziale La Coppola ha definita la più grande opera di risanamento di alloggi ERP. Sentiamo. I cartelli di cantiere campeggiano già su alcuni immobili. annunciano i lavori di risanamento degli stabili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. 13 interventi per 37 milioni di euro che si concluderanno entro il 2026. Un piano di riqualificazione che riguarderà 650 famiglie baresi. I lavori si concentreranno sugli alloggi ERP al San Paolo, a Santarita, a Torre a Mare, cui si aggiungono quelli già in corso nei quartieri San Pio e Catino. Una pagina storica, stiamo scrivendo per la città di Bari perché stiamo investendo 37 milioni del PNRR principalmente per riqualificare i nostri immobili di edilizia residenziale pubblica. Riguarda le zone principalmente di Santarita, Torre a Mare, San Pio e in parte del San Paolo. Riqualificazione energetica, efficientamento energetico degli immobili. Sono interventi compatibili con la presenza degli assegnatari all'interno degli alloggi. Chiaramente ci sarà un attimo di fastidio come in qualsiasi cantiere, ma credo che i benefici che tutta la popolazione, in particolare mi riferisco a Santarita, potrà avere successivamente al termine dei lavori supereranno di gran lunga tutti questi fastidi. Il piano prevede a seconda del quartiere lavori di rifacimento dei elastici solari, isolamento termico, sostituzione di caldaie infissi, realizzazione di nuovi impianti elettrici e riqualificazione degli spazi esterni. In questi giorni sono già iniziati i lavori di sostituzione delle caldaie, caldaie di ultima generazione. invito i cittadini residenti delle zone interessate a collaborare con i tecnici perché nel loro interesse è quello di poter migliorare l'abitabilità degli alloggi di proprietà pubblica. Parliamo di trasporti perché è iniziato oggi lo scavo della galleria di Grotta Minarda, un ulteriore passo verso la realizzazione dell'alta velocità a Napoli-Bari che collegherà i due capoluoghi in due ore. Una talpa meccanica lunga 100 metri è entrata in funzione già da questa mattina per lo scavo della galleria di Grotta Minarda in provincia di Avellino sulla tratta Apice-Stazione Erpinia della linea ferroviaria alta velocità Napoli-Bari. Lavorerà ininterrottamente per i prossimi cinque mesi, per 24 ore, sette giorni su sette, avanzerà ogni giorno di 16 metri fino al termine della galleria di complessivi due chilometri. Contemporaneamente all'interno verrà realizzato un anello di rivestimento. Nel cantiere sono impiegate circa 100 persone altamente specializzate e divise in quattro squadre. Con l'avvio dello scavo della prima delle tre gallerie dell'Avi-Stazione Erpinia oggi si è compiuto un altro importante passo avanti nella realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari. Ai fini del funzionamento della macchina saranno impiegate circa un centenario di persone che si alterneranno in parte all'interno della macchina e in parte all'esterno per i servizi accessori alla macchina stessa. La macchina lavorerà 24 ore su 24, sette giorni su sette e le 100 persone si divideranno in gruppi di quattro che saranno perennemente impegnati quindi a ciclo continuo. I lavori possono contare su un investimento di 628 milioni. La nuova infrastruttura di cui Talferra ha curato la progettazione su committenza di rete ferroviaria italiana si avvale di una dotazione finanziaria complessiva di 5,8 miliardi anche di fondi PNRR e il suo completamento è previsto entro il 2027 quando sarà possibile muoversi tra i due capoluoghi di regione in poco meno di due ore. Dopodiché si passerà alle ulteriori gallerie, già a partire da fine anno partirà una seconda talpa su otto totali che sono state destinate alla Napoli-Bari. E torniamo sul caso della giornalista barese trovata morta nella sua abitazione a Fasano il 29 giugno scorso. La procura di Brindisi ha aperto un fascicolo di inchiesta e spunta anche un indagato. Sentiamo. C'è un indagato con l'accusa di istigazione al suicidio nell'inchiesta aperta dalla procura di Brindisi dopo la morte della giornalista Patrizia Nettis di 41 anni. Il corpo della professionista fu ritrovato senza vita il 29 giugno scorso all'interno del suo appartamento a Fasano in provincia di Brindisi. La famiglia della 41enne intanto ha chiesto ufficialmente che possa esserci la riesumazione della salma per poter eseguire l'autopsia. L'avvocato della famiglia Giuseppe Castellaneta spiega che si tratta di una iniziativa doverosa per escludere ogni altra ipotesi diversa da quella attualmente presa in considerazione dalla procura. L'attività d'indagine, precisa Castellaneta, è parallela a quella che sta svolgendo la procura di Brindisi. L'obiettivo fa sapere al raggiungimento di una verità perché nessuno di noi tra familiari, colleghi e amici crede all'ipotesi del suicidio. Il motivo potrebbe essere riconducibili a cause esterne e noi vogliamo capire quali sono queste cause e per farlo, conclude il legale della famiglia, riteniamo che sia necessario eseguire l'autopsia. Capiamo argomento. 32 anni fa, precisamente l'8 agosto del 91, sbarcava nel porto di Bari la Blora con oltre 20.000 profughi albanesi a bordo. Oggi l'amministrazione comunale ha voluto celebrare questo evento che ha cambiato la città di Bari con degli appuntamenti. Maricla Pastore. L'8 agosto del 1991, circa 20.000 profughi albanesi approdarono nel porto di Bari a bordo della Blora con la speranza di trovare proprio nel capoluogo pugliesi un futuro migliore. E così fu, non senza qualche difficoltà. Tuttavia l'accoglienza dei cittadini baresi sorprese chiunque a partire dall'impegno messo in campo dall'allora sindaco di Bari, Enrico Dalfino. Sono persone, persone disperate, non possono essere rispedite indietro. Noi siamo la loro ultima speranza, raccontò a sua moglie. Sono passati 32 anni da quel giorno che, di fatto, ha rappresentato un punto di svolta nella storia dell'immigrazione nel Novecento, rimanendo ad oggi il più grande sbarco di migranti mai arrivato in Italia a bordo di un'unica nave e rivoluzionando al tempo stesso la storia di Bari, che da allora cerca di distinguersi in materia di integrazione e solidarietà. Oggi, in occasione dell'anniversario, sono stati organizzati due eventi, uno al Teatro Piccini e l'altro al Museo Civico per portare le testimonianze di chi, quello storico episodio, lo ha vissuto solo a propria pelle, come Nicola Montano, ispettore di polizia che gestì le prime operazioni dell'arrivo in porto, Lucaturi, giornalista e fotoreporter, ed Eva Carafili, una dei passeggeri della Vlora che da allora vive e lavora a Bari occupandosi di animazione sociale e di teatro. D'altronde è risaputo a Bari nessuno è straniero. Emozioni, paura, sofferenze, fame, sudori, cioè io posso dire una cosa, un conto è vedere quelle immagini in televisione con migliaia di persone su quel molo, un conto è esserci dentro, toccarli, sentire la loro carne, i loro dolori, vedere i loro sorrisi, è tutta un'altra cosa. E' stato un... c'erano già state nel porto di Bari altri episodi di migrazioni respinte, diciamo così. La Vlora è stata, diciamo così, il simbolo dell'immigrazione, ancora oggi, per il carico enorme che aveva di persone, erano più di 20 mila, circa 20 mila, 18 mila secondo i miei calcoli. E niente, quella gente aveva sete di libertà, aveva fame, ma aveva più sete di libertà. Per me è molto emozionante, sono molto contento che questa opera diventa proprietà, si può dire, di comune di Bari. Perché loro anche hanno saputo, hanno apprezzato e li hanno trovato un posto giusto. E penso che questo è il porto migliore per quella razza. Adesso le notizie dal nostro sito www.telebari.it, ci colleghiamo con la postazione social dove c'è per noi Italo Cinquepalmi. Italo, buonasera. Buonasera Alessandra, e allora a un volto il responsabile dell'abbandono di rifiuti ingombranti a Bari Vecchia, finito nel mirino del sindaco De Caro, che aveva pubblicato un video di denuncia dello scempio, a dare notizie allo stesso sindaco, perché l'uomo ha confessato. Il primo cittadino ha detto che i controlli continueranno, perché se è vero che l'ammio deve migliorare il servizio, è anche vero che questo non autorizza nessuno a trattare la città come una discarica, il responsabile dovrà pagare ora circa 600 euro di multa. E andiamo avanti, al sud Italia, in Puglia c'è assenza di sarti, modellisti e ricamatrici, il rischio è quello di non poter più gestire ordini per l'assenza di personale specializzato e l'allarme è lanciato dall'amministratore delegato della Maison Signore, Gino Signore, che ha laboratori di produzione artigianale in Puglia. Oggi figure professionali come quelle operanti nel ricamo e nella sartoria sono introvabili, ha sottolineato, quindi l'appello è fondamentale che il mondo dell'istruzione pubblica formi, anche con il supporto delle aziende del settore e le figure richieste del mercato. E chiudiamo stop alla musica fino a notte inoltrata. Il sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito ha emanato un'ordinanza che restringe l'orario in cui è possibile fare musica ad alto volume. Si tratta delle fasce orarie dalle 9 alle 14 e non potrà ricominciare la musica prima delle 16 e chiudersi a mezzanotte in punto. L'ordinanza validita dal 10 agosto al 18 settembre vedrà alcune eccezioni in concomitanza con giornate festive o grandi eventi come la festa patronale di Giovinazzo. Bene, con questo è tutto per oggi, a te buona serata. Ringraziamo Italo Cinquapalmi e noi andiamo avanti. Prende sempre più forma il nuovo campo di rugby e football americano a Catino. Lo Stato dell'Opera con l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli. Siamo a Catino, in quella che sarà la casa del rugby e del football americano. I lavori vanno avanti. Stanno completando i getti dei gradoni della tribuna degli spettatori. Ne manca ancora qualcuno. Mentre è finita la struttura portante sia della palestra che degli spogliatoi e ora iniziano le attività di tramezzatura degli spogliatoi mentre il campo è stato già livellato. Quindi, come vedete, continuano i lavori per restituire il prima possibile questo impianto sportivo alla città che ospiterà due sport molto belli come il rugby e il football americano. E adesso un'iniziativa curiosa che ci arriva da Torre Quetta con l'obiettivo di promuovere la lettura tra i bagnanti. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Raffaella Di Renzo. Di fare libri in giro ce ne sono tanti. Il principio è quello di mettere a disposizione un po' di libri perché magari noi ci pensiamo tanto ma non tutti hanno la disponibilità o la predisposizione o anche il cominciare a manipolare un libro, a maneggiarlo. Qui c'è l'occasione. Quindi la cosa che evidentemente sta entusiasmando è proprio questa di avere un servizio a portata di mano, subito. La cultura a portata di mano. Di mano in mano, oltre le onde dell'Adriatico la lettura è che già dalla piccola radura di abeti marittimi e le palme del lungomare di Torre Quetta agli occhi e al cuore di spiaggianti e turisti immersi nella prosa di quelle pagine di libri custodite in quel piccolo chioschetto bianco. Libri in giro è la casetta in legno, versione estiva delle attività comunitarie dal teatro alla lettura per bambini per promuovere la lettura tra i bagnanti in spiaggia a Bari. Sono donazioni e poi anche libri nostri che avevamo in associazione abbiamo partecipato a un bando perché il gestore di Torre Quetta aveva voglia anche lui di aprire la spiaggia anche alla cultura. Molta gente che viene si approccia, si incuriosisce. Inizialmente hanno pensato che si vendessero, invece quando hanno sentito che sono tutti libri gratis hanno ancora più apprezzato questa nostra iniziativa. Per essere una situazione nuova, un chiosco, una casetta vicino al mare, non è da tutti, abbiamo questa fortuna. Posso dire anche centinaia di persone da maggio ad ora. Adesso le notizie dalle province pugliesi. Partiamo da Foggia, dove è stato confermato il primo caso di febbre del Nilo. L'uomo, un 42enne, ricoverato nel Policlinico Riuniti di Foggia ed è seguito nel reparto di malattie infettive. Le novità da Nicola Saracino. Primo caso a Foggia di febbre del Nilo, la malattia provocata dal virus West Nile. Si tratta di un 42enne di Stornarella, ricoverato nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Foggia, le cui condizioni sono stazionarie e in leve miglioramento. L'ultimo caso in Puglia risale a circa dieci anni fa. Decisive sono state le informazioni sulla presenza di zanzare infette nella zona di Barletta, che ha aumentato il livello di allerta regionale. La malattia si trasmette attraverso le punture di zanzare. Il virus è presente negli uccelli, che possono ammalarsi o non ammalarsi. Le zanzare, pungendo gli uccelli, poi possono pungere i mammiferi, prevalentemente o l'uomo o i cavalli. Tant'è vero che in allevamenti equini, cosa che è successo in Emilia Romagna, ci sono stati dei casi anche di enceferite tra i cavalli con decessi anche tra i cavalli, che sembrano gli animali più colpiti tra i mammiferi dopo l'uomo. La febbre del Nilo non dà sintomi nell'80% dei casi, mentre solo nell'1% provoca mialgie e problematiche al sistema nervoso. I medici però invitano la popolazione a evitare allarmismi e a seguire semplici consigli. Non lasciare nei sottovasi l'acqua, perché lì le zanzare, le larve delle zanzare proliferano. Quindi queste sono sicuramente delle misure molto importanti. La lotta è al vettore, quindi alla zanzara. Adesso ci spostiamo nel Tarantino, dove le sponde del fiume Galeto da parco letterario si sono trasformate in una discarica a cielo aperto. Ce ne parla Angelo Ingenito. A Taranto, il piccolo fiume Galeso che sfocia nel primo seno del Mar Piccolo, da bioparco letterario, oggi è una discarica. Una devastante discarica fatta di rifiuti di ogni genere. Dagli inerti ai mobili, dai sanitari agli articoli per la casa, compresi i resti delle auto. Il fiume Galeso, l'unico corso d'acqua che viene accolto dal Mar Piccolo nel suo primo seno, cantato da Virgilio, Orazio, Tommaso Nicolò D'Aquino, da divenire bioparco letterario, oggi è abbandonato all'oblio. È deturpato. Le sue acque non sono più quelle che hanno ispirato Giovanni Pascoli. Di quel fiume ormai resta ben poco. Il territorio della Sorgente, 800 metri a monte, è per gran parte della sua lunghezza una discarica a cielo aperto. Le targhe con i versi dei poeti, Virgilio definì il Galeso ombruso, appaiono ora in netta contraddizione con lo stato attuale di degrado ed abbandono, negandone l'atmosfera bucolica delle origini così esaltate che Orazio avrebbe voluto finire i suoi giorni proprio qui. sorta di epitaffi di un'epoca tristemente tramontata. Il Galeso sino alla fine degli anni 70 ha conservato la sua natura incontaminata e veniva raggiunto a piedi o in bicicletta dagli abitanti del vicino quartiere Tamburi per immeggersi nelle sue acque limpide ed incontaminate. Purtroppo la costruzione della superstrada Taranto-Brindisi a fine anni 80 fu la prima grossa deturpazione paesaggistica del fiume, tanto che un tratto del viadotto è ad una quota così bassa che non è possibile passeggiare per un lungo tratto delle sponde del fiume. Questo fiume ricco di storia è divenuto motivo di lotta di lega ambiente per riportarlo a suo vecchio splendore e realizzare quel progetto di parco letterario così come era previsto, ma che la mancanza di fondi ne ha frenato poi la realizzazione. Chissà se questa nuova denuncia avrà un domani un lieto fine. E andiamo a Barletta dove l'attivismo sui diritti umani ha impressionato il TEDx. Massimo Pillera. Allora, io ho deciso di parlare di rumore parlando di divulgazione e dell'ambito dell'attivismo e di perché è importante essere attivi nella vita di tutti i giorni e fare il rumore in questi termini, mettersi contro i dettami di una società ingiusta e quindi fare il rumore attraverso proteste, manifestazioni e quindi che il rumore, che di solito è un'accezione negativa, diventa invece un'accezione positiva perché è un rumore di protesta e quindi ho fatto tutto un discorso su questo e su anche quello che faccio io nella vita con la mia pagina sia online che offline. Io parlo di femminismo e ovviamente il mio femminismo è antirazzista e intersezionale e quindi prende tutte le discriminazioni. quindi io non tratto solo il razzismo, cerco di trattare il razzismo con un'ottica a 360 gradi e lottare per ogni forma di discriminazione perché uno dei capisaldi del mio discorso era che non è una lotta individuale, è una lotta collettiva che non deve lasciare fuori nessuno, cioè tutte le persone devono essere consapevoli che le discriminazioni non ti devono toccare sul personale affinché tu ti attivi. Deve essere una cosa che viene perché quello che ho detto nel talk la mia lotta è la tua lotta, è la lotta di tutti. Adesso ci spostiamo in Salento, in Migliaia, questa mattina all'alba per assistere alla performance di Annalisa che ha chiuso il Locomotive Jets Festival. C'era per noi Fabio Serino. Per me è un'esperienza pazzesca, nuovissima, non so se dire buongiorno, buonasera, buonanotte, non lo so, però intanto siamo qua, siamo svegli e già questo è un risultato. Sono le quattro e mezza, quasi cinque, direi che per ora va tutto bene. Questa mattina all'alba a San Cataldo si è esibita Annalisa che ha concluso la diciottesima edizione del Locomotive Jets Festival. Dopo il tragico incendio dei giorni scorsi per la Marina di Lecce è stata come una rinascita. Il concerto sulla spiaggia chiude il Locomotive Jets Festival diretto dal noto sassofonista Raffaele Casarano. Annalisa ha presentato una scaletta interessante con uno sguardo rivolto al mondo del jazz tradizionale ma non solo, una performance dal sapore internazionale. Prima del concerto, novità di questa edizione, si è partiti con Aspettando l'alba, coinvolgendo l'intera Marina Leccese con una serie di iniziative intrattenendo il numerosissimo pubblico prima del concertone. L'idea di creare una connessione fra terra e mare, luce e cielo, musica e voci è nata esattamente nel 2012 dalla collaborazione di Raffaele Casarano con la co-direzione di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. I due artisti affermano suonare a San Cataldo dopo gli incendi dei giorni scorsi assume un significato ancora più profondo soprattutto per chi come noi ama questa terra e la sua gente. Bene, siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.